E' tanto che aspetta? E' un'oretta. E' contenta comunque di come stanno andando le cose? Sì, sì, tutto bene, tutto liscio. Questa è una iniziativa lodevole? Certo, sì, aiuta molto anche le persone che sono preoccupate per tutta la situazione. Sono tante le auto in coda per i tamponi in modalità drive-in alla Zoppass Arena di Conegliano. Tutto però procede nel migliore dei modi e secondo programma. L'affluenza è importante, la stiamo gestendo comunque correttamente. Ci sono dei tempi d'attesa ma compatibili con l'affluenza. Il punto tamponi si è deciso di farlo in quest'area per evitare i grossi disagi al traffico che si erano registrati nelle scorse settimane a causa del gran numero di auto in attesa del tampone nei pressi del distretto sanitario. Dal lunedì scorso inoltre qui è arrivato per dare una mano il personale sanitario dell'esercito. Con il loro aiuto si potranno superare i mille tamponi al giorno. È da lunedì che sono arrivati i militari dell'ospedale militare di Udine per dare supporto all'Ulsa a fare i tamponi. Tant'è che è stato montato un campo suo, che è l'ospedale da campo militare, dove con circa 12 uomini loro verranno a fare i tamponi da lunedì al venerdì. Le codee sono scorrevoli e tutte le persone che devono sottoporsi al tampone accettano di buon grado di sottoporsi all'esame, anche con una dose di umorismo, sebbene il momento sia delicato. Si spera che in un finale positivo, ecco, dobbiamo lottare in quello. Questa che non sia un risultato positivo. Questa è una bella battuta, sì, un finale, sì. Però ci vuole la collaborazione di tutti e un minimo di risorse per tutti, perché ci vuole l'impegno ma ci vuole anche il lavoro, ecco, questo è importante.